Come è andato il 2008? Siete soddisfatti dei risultati? Sì, noi come ALD in Italia siamo molto soddisfatti dei risultati nel 2008, abbiamo rafforzato la nostra presenza sul mercato, su tutti i vari segmenti di clientela, con una crescita leggermente superiore a quella del mercato, quindi siamo molto soddisfatti. Quali sono le previsioni per il prossimo anno? La crisi finanziaria mondiale avrà delle ripercussioni nel settore del noleggio a lungo termine in Italia? Questa è una bellissima domanda che ci facciamo anche noi, è chiaro che stiamo come sappiamo tutti in un periodo di crisi finanziaria ma anche economica che tocca tutti i settori di attività e che quindi lascia un livello di incertezza significativa. Detto questo però, noi come ALD riteniamo che il nostro prodotto, il noleggio a lungo termine abbia tutte le caratteristiche per dare sempre più soddisfazioni ai clienti, anche perché in un periodo di crisi giustamente i nostri clienti vogliono far uscire del loro bilancio, far uscire della loro attività, tutte le attività che non sono core business e quindi vogliono trovare dei partner affidabili, competitivi anche per la loro flotta aziendale. Quindi riteniamo che anche in periodo di crisi il nostro prodotto continuerà a crescere e a dare soddisfazioni ai clienti. Come si sta preparando la vostra azienda alla rivoluzione ecologica? Quali minacce e quali opportunità ci saranno nel settore del noleggio a lungo termine in Italia? Allora, la nostra azienda ALD in Italia, ma non solo in Italia, anche a livello internazionale, si sta preparando alla rivoluzione ecologica con un'offerta in termini di prodotto e di consulenza molto precisa e molto mirata, il nome di questa offerta è ALD Blue Fleet. I principi quali sono? Allora, il punto di partenza è di dire che il noleggio a lungo termine in sé aiuta un paese come l'Italia e aiuta anche il mondo a gestire meglio il concetto dell'ecologia. Perché? Perché noi come operatori del noleggio a lungo termine gestiamo la nostra flotta aziendale con dei criteri molto, molto precisi e rigorosi che aiutano a avere un livello di impatto ecologico più basso. Poi, detto questo, la filosofia di ALD Blue Fleet è di essere sempre più vicini ai nostri clienti per dare ai nostri clienti tutti i consigli necessari anche tenendo conto delle emissioni di CO2 in termini di scelta di flotta aziendale. E questi criteri chiaramente li applichiamo anche noi stessi sulla nostra propria flotta per i nostri dipendenti. Quali novità in termini di prodotti e servizi vi vedranno impegnati il prossimo anno? Allora, non è che ci vedrà impegnati, è che noi abbiamo voglia di sempre migliorare l'offerta in termini di prodotti. Credo che per il 2009 la chiave dell'evoluzione della nostra gamma prodotto sarà dare sempre più la flessibilità che richiedono i nostri clienti. Il nostro prodotto è un prodotto completo che deve sempre di più adattarsi alle specifiche richieste dei nostri clienti e quindi i nostri funzionari commerciali sono sempre di più preparati ad essere dei veri consulenti per i nostri clienti e la nostra gamma prodotto è sempre più flessibile per fare due o tre esempi. Siamo capaci di gestire la tipologia dei pneumatici, siamo capaci di gestire tutte le franchigie immaniginabili in termini di copertura assicurativa. Quindi sempre più un pacchetto mirato e dedicato a tutte le esigenze dei clienti. Grazie mille. Grazie a voi.